L'arte per combattere la violenza di genere. Appello per l'Eco ha promosso il convegno Palazzo Falc Adolescenti Ascolto Arte. Il focus è dedicato alle nuove generazioni. Come sempre è uno di appello per l'Eco quando siamo molto attenti sul tema della violenza di genere però preferiamo sempre cogliere sfaccettature sempre diverse per cui questo convegno cercherà di trovare modalità e luoghi sia fisici che virtuali perché l'educazione e l'ascolto degli adolescenti permetta loro non solo di essere consapevoli di se stessi ma di creare e costruire relazioni con le altre persone. Noi cerchiamo come SST di essere vicine alle donne sin dall'ingresso del pronto soccorso ma anche poi lavorando con il telefono donne e l'altra metà del cielo che sono i centri antiviolenza. Cerchiamo di prendere in carico a 360 gradi la salute delle donne ma anche dei minori e quindi dei bambini e quindi di occuparci anche di quella che viene definita violenza assistita. Cerchiamo anche di potersi rendere indipendente dal punto di vista economico e anche per quello che riguarda il discorso del trovare un alloggio di trovare una dimora. Noi teniamo tantissimo soprattutto da un punto di vista psicoeducativo ma anche tanto didattico alla conoscenza e a una prima alfabetizzazione delle emozioni, dei sentimenti. Questo in realtà vale per tutti sia maschi che bambine. Quindi ci auguriamo che anche non solo la scuola paritaria come l'Istituto Maria Ausiliatrice ma tutte le altre scuole investano su figure che non sono solo insegnanti e docenti ma che sono anche specialisti del settore che aiutano i ragazzi in questa crescita. Ringrazio per l'invito perché il tema di stasera è molto importante, unisce il tema dei giovani, l'adolescenza, la dimensione dell'arte che educa al bello e quindi al benessere anche e il tema della violenza contro le donne, del linguaggio legato alla violenza contro le donne. Credo che sia un'opportunità e un'occasione per tutti di riflettere insieme su qualcosa che visto la cronaca di questi giorni diventa sempre più di attualità.